Esiste una particolare tipologia di virus che si può annidare nel nostro Google Chrome che non è rimovibile con i classici strumenti di cui abbiamo visto anche nel video precedente. Infatti può capitare di visualizzare questa barra sopra il motore di ricerca, Secure Search, che è emblematica di una tipologia di virus appunto molto particolare. Vediamo quindi in questa guida come riuscire a rimuovere questo virus che oltre a questa barra ovviamente visualizza poi pubblicità nel motore di ricerca, nei siti in cui entriamo e insomma crea molti altri danni. Per rimuoverlo appunto ci dobbiamo ricare nelle impostazioni, quindi andiamo nella parte in alto a destra, clicchiamo sulle impostazioni e poi sul menu apposito. Una volta all'interno di questa pagina scorriamo in basso e clicchiamo su avanzate. Scorriamo ancora in basso fino a portarci a questa altezza, in Sistema. Clicchiamo quindi su Apri le impostazioni proxy. Come potete vedere la particolarità di questo virus è che non si annida direttamente su Google Chrome ma si annida proprio all'interno del computer, nelle sue impostazioni. Quindi è per questo che con i classici canali non si riesce a rimuovere. Comunque all'interno di questa finestra dobbiamo andare su Impostazioni rete locali LAN e cliccare sul pulsante Impostazioni LAN. Nel vostro caso, io ovviamente l'ho già rimosso precedentemente, qui troverete la spunta su Utilizza script di configurazione automatica e troverete poi al suo interno un indirizzo. Quell'indirizzo porterà appunto, è quello che porta poi al virus. Quindi la cosa che voi dovete fare è cancellare e togliere la spunta da Utilizza script di configurazione automatica. Clicchiamo quindi poi su OK, Applica e nuovamente OK. In questo modo avremo rimosso il virus dal computer e se voi chiudete e riaprite il browser vedrete che non visualizzerete più la barra Secure Search e comunque il virus sarà rimosso. Qualora dovesse persistere un qualsiasi tipologia di problema sul vostro browser, vi invito a riguardare la guida precedente dove si vede invece come rimuovere le altre tipologie di virus dal browser. Bene, quindi per questa guida è tutto. Non dimenticare di iscriverti e di mettere mi piace al video. Noi ci vediamo nel prossimo tutorial.